Una mostra che vive sul confine sottile tra il controllo e l'imprevedibile, tra la geometria e la poesia intima. Entrare nella sede milanese della Galleria Poggiali per avvicinarsi a Portrait of the Room di Thomas Kovacevic è un'occasione per, in qualche modo, ripensare la lezione dell'arte moderna alla luce di un materiale apparentemente minore come la carta, che è l'elemento chiave del lavoro dell'artista americano, che guarda la lezione del minimalismo e delle sue conseguenze, ma lo fa, come ci ha spiegato la curatrice Chiara Bertola, con un approccio inedito. Tom riesce a attraversare queste esperienze stando in un equilibrio straordinario e prendendo da ogni esperienza, diciamo queste esperienze storiche, rimontandole, risentendole e rieditandole in una maniera totalmente personale e unica, direi. I lavori esposti nello spazio che si affaccia su Foro Buonaparte sono testimonianze di un pensiero, sono oggetti impossibili che diventano altro, in una continua metamorfosi, solo apparentemente impercettibile. E ascoltando Thomas Kovacevic si capisce che appartiene a quella categoria di grandi artisti americani, insieme per esempio a Carl Hunter, Frank Stella o Richard Attle. Ho lavorato con gioia, ci ha detto l'artista, ripensando al suo approccio alla serie espositiva. Uno spazio magnifico, una bellissima via, queste splendide vetrine, questa splendida luce. Io ho capito che potevo rispondere con felicità e spero che il pubblico possa vedere la felicità che ci ho messo. Una risposta che, si capisce, già aggiunge qualcosa al minimalismo, lo riformula, lo amplia, lo avvicina a noi, nello stesso modo in cui i lavori si modificano in relazione al clima della stanza. Questo lavoro reagisce all'ambiente, ci ha spiegato Kovacevic, ed è anche per questo motivo che abbiamo scelto di intitolare la mostra Portrait of a Room. Ovviamente ci sono anche aspetti di architettura, di installazione, ma soprattutto perché reagisce all'atmosfera che c'è effettivamente dentro la stanza. E questo anche per aspetti che esistono realmente, ma che non percepiremmo se non attraverso il cambiamento nelle opere esposte. È anche un lavoro ecologico che si ispira al ciclo dell'acqua che regola la vita sulla terra. Secondo me è una mostra di una freschezza e di una contemporaneità straordinaria. Mi viene quasi da dire una delle più contemporanee mostre che ho visto in questi ultimi tempi. L'esposizione di Thomas Kovacevic in Galleria Poggiali resta aperta al pubblico fino al 27 marzo.